buongiorno emma buongiorno brando brando oggi buongiorno dalla macchina ancora non ho comprato quello per mettere il telefono prima poi lo comprerò stiamo andando in villa e a prendere un regalo per brando dopo vi farò vedere che c'è in realtà dovevamo pulire la macchina ma la devo prima svuotare quindi dopo la svuoto e poi vediamo a dopo allora eccoci qua siamo venuti in villa che desiderava venire che ieri non è stato possibile aspetto emma ciao brando andiamo bravo ciao brando eh sì andate insieme sull'altalena siamo scesi un po ci stavamo annoiando a casa stiamo tornando a casa con quest'ora legale non si capisce niente si chiama legale no è un'ora illegale veramente abbiamo già sonno qui la mamma ha preparato la pizza com'è la pizza della mamma buona è buona brando tanto 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 oh grazie emma com'è buona tu che hai mangiato alla piadina e niente per cena ho preparato la pizza io raga non so come sto facendo a registrarsi proprio perché non ho minuti né nella schedina sd e nel telefono mi c'ho solo tre minuti sono rimasti tre minuti e poi vi devo salutare comunque finalmente questa domenica è finita odio la domenica ditemi quello che volete io non ho di lunedì odio la domenica mi porta depressione proprio non so perché quando non fai nulla di che siamo anche usciti oggi mi mette un'ansia la domenica che voi non avete che non è sicuramente il mio giorno preferito sicuramente è strano molti la mano io no niente 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 basta io vado a cina dopo occupato buongiorno tempo è così ha il 31 ottobre ieri che si capisce vabbè tanto oggi bisogna essere brutti far spaventare siamo a posto oggi facciamo spaventare va bene va bene va bene oggi a scuola raggiungiamo il biscotto di ala abbiamo comprato il biscotto azzù che non vi ho potuto far vedere perché l'hanno hanno messo tipo un incarto quindi non potevo aprirlo sennò non potevo poi dobbiamo sapere pure quella torcia quella lì che si è linda hanno fatto acquistare una torcia non so cosa devono fare va bene ci aggiorniamo tra un po' eccola qua pronta andiamo stiamo andando a danza quindi primo step a danza sei vestita da streghetta tutta nera black vero? è vero fai gira fai vedere il cuoricino che ti ho fatto eccola qua e la zucchetta e niente non si vede niente brando tetti tetti brando Anna sta per cadere vabbè allora io direi di fare una cosa vabbè vabbè mi sa che sta facendo la cacca il bambino mi spingendo vabbè 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 mascotte o hai fatto dolcetto scherzetto bravissima molto bello bello buongiorno e siamo al giorno dopo e oggi è la festa dei santi e io continuo il blog perché ieri ho registrato pochissimo scusate ma sto stirando tra luce dietro vabbè mi ritardo auguri a tutti e soprattutto auguri a brando perché oggi festeggiamo il suo nomastico in quanto lui non ha un giorno per uno massico lo festeggiamo oggi scusate ma mi sono fatta la doccia adesso mi devo struccare e ritruccare nulla quindi vi porto con me a casa dei miei perché festeggiamo lì brando e vi faccio vedere un pochettino tutto ci aggiorniamo fra un po adesso lo vado a vestire poi ve lo faccio vedere ecco qua il festeggiato eccolo qua ma che ti sei comprato hai comprato i regali a brando ok brava questa è gira la moda professione stilista chiamo l'ascensore auguri il tuo nomastico auguri come sei bello come sei bello allora eccoci qua auguri buona festa dei santi auguri brando oggetto nomastico allora fammi vedere qui cosa hanno preparato qui una leggera fame ma poco perché la dieta allora vai prego signorina pochissimo pochissimo che devo fare la luce allora questo è il mio piattino piccolo perché io resto sempre leggera un brindisi a tutti i santi ma io sono la più santa e adesso assaggero la pasta per dare un voto perché il tavolo un po valla un po va di mette qualcosa sotto allora buon appetito io assaggio complimenti buona buonissimo io ho mangiato poca pasta un pezzettino di carne per mantenermi in forma queste che sono cotolette questa melanzane farò giusto un assaggino una carrellatina e poi un po di coca un po di coca cola allora ecco qua la torta e il cucciolino allora siccome i secondi erano pochi io voglio assaggiare bene la torta sinceramente non riesco bene ad assaporare la torta non ha tanto gusto che gusto è nocciola ma non si sente diciamo è più da nocciola buona 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 è arrivato il momento dei regali lo vuoi regalino e scatta tieni 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 dai che ma ti da una mano dai da solo qua così qua vai tira 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 vai 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 bravo auguri 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 vai mamma vai guarda come ride vai 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 che cosa wow wow che cosa è amore auguri brandon ti aiuta la sorellina e poi vai fai vedere signorina cosa wow che bello vabbè dai vediamo la zia cosa ha regalato allora intanto mette il papà mette le pile i calzini oh come sono belli ci servivano proprio ma fa papà amore fa papà allora maglietta come è bella col pantalone ah belli comodi per l'asilo ma mi servivano proprio i modi e quando sono belli ah bello questo col pantalone bello ma questo verde quanto è bello mo stavo vedendo un bello spettacolare questo sembra col pantalone hai fatto bene vabbè dai comunque un altro po' è bello bello Alternatively è tipo di tutto supporto ha bello spettacolare questo verde anche questo verde anche se non è snodabile un altro po' è e non è snodabile brandon ti piace? è snodabile brandon ti piace? è snodabile a snodabile ahm ha! un po' di robot è bello però è bello però è snodabile brandon ti piace? Acchiappa il bambino Vai Vai Forte Una cosa silenziosa E siamo arrivati a giorno 2 2 novembre Oggi è la giornata dedicata ai defunti Che ovviamente vanno ricordati sempre Ci riportiamo nel nostro cuoricino E io vi saluto Chiudo qui il vlog Oggi inizia una nuova giornata Sempre con me Io ci provo Mi sto impegnando Salto molti passaggi Tipo domenica sono passata dalla mattina Che stiamo alla villa alla sera Ho saltato tutta la giornata Però comunque quando riesco Cerco di registrare Ormai lo sapete Passiamo da un tempo all'altro Non si capisce cosa faccio poi durante Però Ci provo a farvi stare con me E vi mando un bacio Vi aspetto poi con un prossimo video Non dico più domani Se no poi dite Eh ma domani Cioè quando arriva il domani Dite ma non è messo il video Ci rimanete male E quindi Comunque Ci tenevo a salutare una persona Che non mi ricordo il nome Non so se me l'hai detto Che ho incontrato La sera di Halloween Su Viale Liguria Quindi ti ricorderai che sei tu Perché sei stata l'unica Vicino alle mascotte Scusami se ti ho dedicato poco tempo Ma avevo mia sorella che mi chiamava I bambini e tutto Quindi io poi sono molto molto stralunata Cioè veramente Io se mi vedete di persona Non si può guardare Sono Svampita Ecco Sono molto svampita io Quindi a volte mi parlate Sembra che non vi sto ascoltando Ma in realtà non è così Sono proprio io così Di natura un po' Bene Io vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo video Ah ecco Stavo dicendo Vedete come sono Ti mando un bacio grande Un abbraccio grande E ti volevo salutare anche da qui E ringraziarti per le cose belle Che mi hai detto Ci vediamo al prossimo video Ciao